La procura di Arezzo ha disposto l'autopsia per stabilire l'esalta causa della morte del 59enne Aretino lasciato di fronte al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. L'uomo, noto alle forze dell'ordine come assuntore di sostanze stupefacenti, lo scorso martedì era stato scaricato da un'auto nella cosiddetta camera calda, tra la prima e la seconda porta d'ingresso del pronto soccorso, già privo di sensi. Immediatamente i sanitari lo avevano soccorso, ma ogni tentativo era risultato vano. Il 59enne era morto infatti poco dopo. Non è chiaro se la morte possa essere collegata all'uso di droghe, per questo il pubblico ministero ha conferito l'incarico all'equipe di medicina legale dell'Università di Siena per eseguire l'accertamento. Proseguono anche le indagini portate avanti dalla squadra mobile della questura di Arezzo che sta raccogliendo testimonianze ed ha già acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza. L'obiettivo è quello di rintracciare chi ha lasciato il 59enne all'ospedale e cosa possa averlo ucciso. Solo dopo potranno essere valutati se e quali reati potrebbero configurarsi.